È un luogo di eterno tormento, un pozzo tenebroso di peccato e sofferenza, un mondo di disperazione senza fine, l'inferno. Andare all'inferno è una scelta. Per comprendere questa affermazione, viaggiamo insieme nell'inferno di Dante. Nel Medioevo, il fiorentino Dante Alighieri compose l'inferno, che è entrato nell'immaginario della cultura occidentale. Dante è il protagonista stesso dell'opera. Ha smarrito la strada ed è disperato. L'inferno è la migliore opera mai scritta su una crisi personale. Dante considera la propria situazione come frutto del peccato e la affronta mostrandoci i molteplici modi in cui l'uomo commette il male. Il poema ha inizio nella selva oscura, l'allegoria del peccato e della corruzione nell'anima di Dante. L'inferno è la storia di un uomo che un giorno prende atto della propria crisi di identità. Dante si ritrova in una selva oscura e non sa come uscirne. In una simile situazione non esistono scorciatoie. Dante si avvale dell'aiuto dello spirito del poeta Virgilio, che lo guiderà fuori dalla selva, sulla via della salvezza. Per Dante, l'autore dell'Eneide era un modello esemplare non solo perché aveva descritto la discesa agli inferi di Enea, ma anche perché la sua quarta egloga nel Medioevo era considerata una profezia della venuta di Cristo. Virgilio rappresenta la grandezza dell'arte classica. Dante, invece, incarna il peccatore e non ha nulla a che vedere con gli eroi dei poemi epici. La sua unica arma è la poesia. È un uomo che affronta un itinerario spirituale. Insieme, Dante e Virgilio scenderanno agli inferi attraverso nove diversi cerchi. I cerchi danteschi conferiscono all'inferno una struttura ben definita. Ogni cerchio ospita una precisa categoria di peccatori e più in basso scenderà Dante, più gravi saranno i peccati e le pene che incontrerà. Dante ideò non soltanto una geografia fisica che gli permise di punire adeguatamente i peccatori, ma anche una geografia morale. L'inferno è la rappresentazione delle difficoltà della vita umana. Per i più fortunati, la vita può essere paragonata a una ricerca, e l'inferno narra di questa ricerca lunga una vita. Si sa poco della vita di Dante. Sua madre morì quando egli era ancora molto giovane e Dante, adolescente, rimase orfano. Egli non fu soltanto un poeta celebre, ma anche un politico di successo. Nel 1300 venne eletto Priore, una delle magistrature più importanti di Firenze. Ma nel 1302 la sua carriera politica ebbe improvvisamente fine. Fu accusato in contumacia di corruzione e condannato al rogo. Venne quindi esiliato e non poté più tornare a Firenze. La sua amata città lo aveva tradito. Sembrava tutto perduto. La sua carriera politica era finita, la sua casa abbandonata, lo stile di vita interrotto. Dante era disperato. Forse, senza l'esilio, Dante non avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia. L'esilio gli permise di vedere tutto da una prospettiva più ampia e fare i conti con questa nuova realtà è in definitiva il filo conduttore di tutto il poema. Per iniziare questa ricerca, Dante e Virgilio devono varcare la soglia dell'inferno. Una volta arrivati alla porta dell'inferno, una scritta li avverte. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. L'aspetto più terrificante dell'inferno dantesco è l'idea di un luogo senza speranza. Questo concetto è sempre più evidente man mano che Dante e Virgilio proseguono la loro discesa nelle viscere dell'inferno. Per tai difetti, non per altro rio semmo perduti e sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. Grandual mi prese al cor quando lo intesi. La speranza era fondamentale nel Medioevo. A quei tempi, la vita era breve e crudele. La violenza religiosa e politica era la regola, non l'eccezione. Le epidemie erano dilaganti e inspiegabili. Per molti, la speranza di una vita eterna forniva una ragione per sopportare le sofferenze quotidiane. L'ultima cosa che si potesse desiderare era di passare l'eternità in un luogo identico al mondo terreno. Le immagini di tormento e di dolore fisico nell'inferno dantesco riflettono quell'esperienza. La Divina Commedia comincia dall'inferno, passa attraverso il Purgatorio per arrivare al Paradiso. Con le tre cantiche, Dante ci dice che la nostra sorte nell'aldilà dipende dalle scelte che facciamo mentre siamo in vita. La Divina Commedia è un'opera sul libero arbitrio che induce alla riflessione che suggerisce di fermarsi a pensare non solo a quello che stiamo facendo ma anche alla strada intrapresa. Quando i dannati arrivano all'inferno devono presentarsi al cospetto di Minosse il giudice che assegna a ciascun peccatore la sua punizione. All'inferno ogni personaggio viene descritto così com'è nella vita terrena e poi rimane tale per l'eternità. Dante ha rappresentato in modo geniale una sorta di geografia della scelta. Il viaggio di Dante e Virgilio parte dal primo cerchio il Limbo. Qui si trovano tutte le anime non battezzate compreso Virgilio. La loro unica pena consiste nel vivere in eterno senza vedere Dio. Il vero e proprio inferno ha inizio con il secondo cerchio quello dei lussuriosi. I peccatori descritti da Dante nel quinto canto sono entrati nell'immaginario popolare come in questo film del primo novecento. Paolo e Francesca vissero ai tempi di Dante e scelsero consapevolmente l'adulterio. Sono i primi a pregarlo di ascoltare la loro storia infelice. Come molti altri peccatori Francesca non ritiene di essere colpevole. Sostiene infatti di essere stata indotta al peccato dalla lettura di un romanzo francese del dodicesimo secolo. Il libro descriveva le vicende amorose di Lancillotto e Ginevra. Una volta scoperti vengono uccisi dal marito di Francesca. L'incontro con Paolo e Francesca è il primo dialogo dell'opera. La loro pena stabilisce la logica dell'intero poema. Pensiamo alla definizione che Dante dà del peccato di lussuria e proviamo a immaginare una vita guidata solo dai nostri impulsi. Forse non sarebbe piacevole. Dante ebbe molta fantasia nell'immaginare la legge del contrapasso. Secondo questa legge chi ha peccato attraverso degli eccessi o degli impulsi erotici è rapito in un vortice paragonabile a una bufera. Dante è talmente sopraffatto da un sentimento di pietà nei confronti di Paolo e Francesca che sviene. Accecato dall'emozione non riconosce il loro peccato. Quando Francesca racconta la sua vicenda omette alcuni dettagli. Francesca innanzitutto era una donna sposata e aveva tradito il legittimo consorte con suo cognato. Questi dettagli si riveleranno molto importanti. Dante ha intrapreso un percorso attraverso l'inferno e ora prova pietà per Francesca. Ricordiamo che ha appena lasciato la selva oscura è sconvolto e lo sarà ancora a lungo dopo il suo incontro con Francesca. Il suo viaggio ha lo scopo di condurlo fuori dalla selva dalla quale non è ancora uscito completamente. Dante descrisse l'inferno come nessun altro aveva fatto prima popolandolo di personaggi torture e sofferenze reali. Credo che nessuno possa pensare di descrivere l'inferno se non nei termini danteschi la sua fantasia ha impresso nella cultura occidentale immagini indelebili. Ha fatto meglio chi si è ispirato a Dante piuttosto di chi ha tentato di imitarlo. Ritengo che non vi sia stato ancora nessuno in grado di realizzare un'opera altrettanto efficace sull'inferno. L'influenza di Dante è rintracciabile in molte opere successive. Dopo che egli scrisse la Divina Commedia numerosi artisti illustrarono la visione dantesca. Il famoso affresco di Michelangelo il giudizio universale si ispira a Dante. Il tema dell'inferno è centrale nelle opere di Bosch e Gustave Doré illustrò tutte e tre le cantiche della Divina Commedia. Svariati artisti continuarono a realizzare dipinti e sculture ispirandosi a Dante a tratti dall'estrema precisione con la quale viene descritto l'inferno. Non temete coloro che uccidono il corpo perché non possono uccidere l'anima. Per Dante l'autorità in tema di vita ultraterrena era la Bibbia che si esprimeva in termini mistici e vaghi. che cosa faremo all'inferno? Dante sviluppò queste idee e diede all'inferno una forma delle dimensioni e una struttura. Peccare significa non rispettare la legge di Dio e negare la sua gloria e in questo senso tutti i peccati sono uguali anche se i loro effetti possono essere molto diversi. così Dante diede libero sfogo alla sua immaginazione e concepì l'architettura dell'inferno in modo perfettamente coerente. Non c'è dubbio che sia stata la Bibbia l'unica fonte di ispirazione per Dante. La storia dell'Esodo nelle Sacre Scritture è un paradigma di liberazione. Una storia che parla dell'uscita dalla schiavitù e che Dante paragona al suo viaggio personale il viaggio di un pellegrino che abbandona il peccato per la redenzione. Penso non esista una descrizione dell'inferno più chiara di quella dantesca. Le immagini si sono impresse nella nostra mente esattamente come la Genna riusciva a catturare l'immaginazione degli ebrei. Nella Bibbia Gesù metteva in guardia i discepoli contro la Genna una discarica di rifiuti che bruciavano fuori dalla città di Gerusalemme. Non si trattava soltanto di un cumulo di rifiuti. Qui confluivano tutte le fogne della città e l'immondizia abbandonata in quel luogo era coperta di muffa e di vermi. La Bibbia si riferisce alla Genna come al luogo dove i vermi non muoiono mai. Era il luogo evocato dai profeti quando volevano descrivere come sarebbe stata la vita dei peccatori dopo la morte. Era un'immagine che tutti potevano vedere con i propri sensi. i profeti dicevano sarete condannati a vivere in eterno in un posto simile a questo. Ogni cultura interpreta l'inferno in modo diverso. Per gli abitanti di Gerusalemme l'inferno era la Genna ma a partire dal XIV secolo l'inferno dantesco entrò nell'immaginario collettivo. Dante e i suoi contemporanei credevano in una vita eterna fatta di premi e punizioni. Oggi l'idea di inferno è cambiata radicalmente. L'inferno oggi è una questione di marketing. L'immagine del diavolo viene utilizzata per vendere molti prodotti per renderli più commerciabili. Dante ha dato forma al concetto di inferno ma il nostro atteggiamento a riguardo è molto cambiato. E adesso festeggiamo! L'inferno appare spesso nei film nei video musicali e nelle campagne pubblicitarie come una sorta di parco dei divertimenti. e ricordate che è molto facile peccare! Un luogo animato da musica ad alto volume e da bellissime donne seminude dove si può fare tutto ciò che si vuole. ma l'opera di Dante verte proprio sulle conseguenze di un tale stile di vita. Quando Dante scrisse l'inferno aveva un proposito chiaro in mente convincere i suoi contemporanei a vivere meglio a riconoscere i propri vizi e a tentare di cambiare per sfuggire all'inferno e conquistarsi il paradiso. Se consideriamo i cerchi dell'inferno vediamo che ognuno è dedicato a vizi e crimini differenti che tutti noi potremmo commettere. Dante compose l'inferno da cattolico ma le sue idee andavano ben al di là della dottrina cattolica. Anche tralasciando in parte la teologia e la morale propriamente cristiana è rintracciabile una struttura etica di valore universale. Dante si impone presso il pubblico di tutto il mondo con una indiscutibile forza morale. Il suo viaggio all'inferno si può interpretare come una ricerca psicologica. Più si va in basso più diventa difficile evitare la realtà del peccato e del dolore. Prima di cercare Dio Dante deve conoscere il male in tutte le sue forme il che significa guardarsi allo specchio ecco ciò che fanno questi peccatori mettono Dante di fronte a uno specchio mostrandogli come potrebbe diventare se non sfuggisse a certi peccati è un viaggio attraverso la conoscenza di se stessi si parte da una selva oscura e si arriva a conoscere la natura del male il viaggio continua Dante e Virgilio arrivano nel quinto cerchio dove il poeta abbandona il ruolo di spettatore spaventato è il cerchio degli racondi e degli acidiosi condannati a vendicarsi e a litigare tra loro sulle rive della palude dell'ostige gli acidiosi sono nascosti intrappolati nel fango di quelle torbide acque quando Dante e Virgilio attraversano la palude vengono riconosciuti da un nemico politico di Dante Filippo Argenti in collera per aver trovato Dante all'inferno ancora vivo anche Dante si arrabbia ha la meglio su di lui e lo lascia mentre si prende a morsi sembra che Dante abbia avuto per così dire la possibilità di ripagare con la stessa moneta chi gli aveva fatto del male e io maestro molto sarai vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago ed egli a me avanti che la proda ti si lasci veder tu sarai sazio di tal disio convien che tu goda dopo ciò poco vidi quello strazio far di costui alle fangose genti che Dio ancora ne lodo e ne ringrazio è come se Dante dicesse a Virgilio vorrei davvero vedere Filippo Argenti stritolato in eterno in questa palude è possibile? e Virgilio risponde è giusto sì ti prometto che lo vedrai è qualcosa di estraneo alla nostra sensibilità mi sembra che Dante stia parlando di rancori e desideri personali di sete e di vendetta proprio nel momento in cui viaggia verso un luogo che dovrebbe essere al di sopra di tutto ciò questo episodio segna l'inizio di un cambiamento Dante impara a non avere pietà dei dannati ma è ancora dominato dal desiderio di vendicare il suo esilio il suo pellegrinaggio non è ancora finito Dante in qualità di narratore non sta semplicemente vagando in un luogo suggestivo per illustrarne le caratteristiche e la struttura Dante infatti è anche protagonista del poema lungo il cammino ha un'evoluzione interiore per liberarsi dalla sete di vendetta Dante deve confrontarsi con le conseguenze delle cattive intenzioni nelle profondità dell'inferno incontrerà i violenti Dante si rivolgeva al pubblico più ampio possibile per comunicare che le scelte compiute nel corso della vita implicano conseguenze significative per rafforzare l'idea che non tutti i peccati sono uguali il poeta immagina delle mura che dividono la parte alta dalla parte bassa dell'inferno distinguendo i peccati imputabili alla debolezza da quelli dovuti alla malizia il male nato dalla debolezza umana ci fa scivolare in errori e scelte che presentano una duplice valenza negativa infatti questo genere di azioni non solo non contribuisce alla nostra crescita ma si ripercuote inevitabilmente sugli altri ma non si tratta di atti intenzionali in realtà chi li compie non voleva fare del male a nessuno diverso è il caso in cui le persone peccano con malizia vogliono recare danno a qualcuno con un intento preciso Dante e Virgilio attraversano la palude per entrare nella città fortificata di Dite nel basso inferno noi pur giungemmo dentro all'alte fosse che valla in quella terra sconsolata le mura mi pare anche ferro fosse anche all'inferno chi si è macchiato di atti orribili e violenti deve essere rinchiuso e sorvegliato Bill Cook e Ron Herzman hanno inserito la divina commedia nel programma di insegnamento di un carcere di massima sicurezza stavamo parlando di Paolo e Francesca e in particolare di come lei accusava il libro Galeotto e l'amore ma non se stessa quando un nostro studente un omicida ha alzato la mano e ha detto questo sono io ecco perché sono qui alcuni criminali alla stregua dei peccatori dell'inferno dantesco non si ritengono colpevoli dei loro misfatti Sterling Fisher colpevole di omicidio deve scontare l'ergastolo in una prigione degli Stati Uniti il mio inferno è stato quello di essere costretto ad ascoltare cose che reputavo false la gente non bada le tue motivazioni guarda solo al passato e poi si fa un'idea che non tiene conto del fattore individuale e delle circostanze per me questo è l'inferno per la maggior parte delle persone è inaccettabile avere un'opinione negativa di sé e temere di andare all'inferno nel corso dei miei 30 anni di attività in qualità di psicologo forense ho imparato dai detenuti una cosa affascinante anche chi ha commesso i crimini più efferati generalmente non si giudica una cattiva persona spesso al contrario sono proprio queste persone che cercano di giustificare in modo piuttosto contorto le proprie malefatte sebbene Dante non abbia commesso tutti i peccati incontrati nel poema si sforza costantemente di vedere se stesso riflesso nei peccatori dell'inferno in questo modo Dante ha la possibilità di cambiare il proprio destino dopo la morte Sterling Fisher in prigione ha davanti a sé tutta la vita per riflettere su ciò che vorrebbe cambiare commetterebbe ancora quell'omicidio? non ho mai avuto intenzione di commettere quell'omicidio prova rimorso per ciò che ha fatto? lo provo per la famiglia non per la vittima quando fai qualcosa di sbagliato alla fine vieni scoperto non importa da che parte stai dovevo vendere una pistola a un ragazzo che ha tentato di prendermi l'arma e anche i soldi e io gli ho sparato due volte sembra orribile ma se ci pensate ha avuto quel che si meritava se qualcuno commette un crimine o fa del male a un'altra persona ma non riconosce il proprio errore e pensa che questo non dipenda da lui non c'è nulla da fare perché manca di qualsiasi senso di responsabilità non esiste giudice poliziotto genitore o coniuge che possa fare cambiare una persona contro la sua volontà l'unica cosa che può succedere è che questa arrivi a detestarsi in altre parole a ognuno di noi occorre una motivazione interiore per cambiare gli psicologi forensi aiutano i detenuti che riconoscono le proprie responsabilità e li preparano all'autoanalisi li guidano spingendoli a esplorare gli angoli più bui della loro mente per comprendere le conseguenze delle loro azioni provano ad aiutare una persona a fare delle scelte nuove che vanno in una direzione opposta a quella intrapresa fino a quel momento il terapeuta è una guida che indica la strada nel suo tentativo di uscire dalla disperazione e di ritornare alla consapevolezza Dante spesso si rivolge a Virgilio che lo aiuta a confrontarsi con il suo lato oscuro i suoi peccati e i suoi errori di giudizio solo allora Dante viene illuminato da giusti pensieri Dante ha bisogno che Virgilio lo guidi attraverso questo processo infatti da scrittore ritiene che nessuno possa intraprendere questo viaggio da solo deve esserci uno sforzo comune si possono fare delle scelte ma senza una guida non si arriva molto lontano nel settimo cerchio dell'inferno Virgilio conduce Dante ad assistere alla punizione degli assassini immersi nel sangue che essi stessi hanno versato Dante è riuscito a rappresentare molto bene la concretezza del peccato e cosa geniale ha saputo infondere l'idea che il peccato fosse il suo stesso tormento che l'anima soffriste nel peccare così ogni volta che Dante pensa a un peccato non immagina separatamente un'offesa e una punizione ma li concepisce come se fossero una cosa sola Dante inorridisce di fronte al fiume di sangue ma viene incoraggiato a guardare il volto dei peccatori nel canto dodicesimo si dice voglio che tu credi che da quest'altra più a più giupprema lo fondo suo infin che il si raggiunge ove la tirannia convien che gem la divina giustizia di qua punge ovvero le pene sono meritate la fede cristiana ci insegna che l'inferno è il luogo in cui regna la giustizia la concezione biblica dell'inferno è molto precisa tutti noi siamo consapevoli che un giorno verremo giudicati o forse addirittura lo desideriamo la giustizia prevarrà i giusti verranno premiati gli altri puniti per tutte le culture del mondo l'inferno ha sempre rappresentato l'ultima speranza di giustizia l'idea è che non importa ciò che si è fatto durante la vita o quanto si è ricchi o potenti il male verrà punito all'inferno nell'ottavo cerchio i ladri morsi da serpenti si derubano l'un l'altro il corpo tra questa crude e tristissima copia correvan genti nude e spaventate senza sperar per Tugio o Eliotropia con serpi le man dietro avean legate quelle ficcavan per le rene la coda e il capo ed erano dinanzi aggroppate siamo attratti da questi tormenti in quanto desideriamo che ciascuno abbia quel che si è meritato Dante vuole mostrare al lettore che il peccato è una scelta e che la sua conseguenza è la morte dell'anima perché scegliamo allora di peccare e di indebolirci Dante pone questa domanda chi può sopportare tutto questo dolore e la risposta è noi l'inferno può essere definito una scuola per la volontà vengono messi in scena tutti i modi in cui un'anima può farsi del male per insegnarci che la nostra volontà può essere meglio indirizzata prima che Dante trovi la retta via dovrà confrontarsi con il male assoluto satana in persona l'inferno dantesco è una sorta di manuale di vita nessun'altra opera letteraria ha definito meglio la natura del peccato Dante e Virgilio iniziano la loro discesa finale verso il nono e ultimo cerchio l'abisso ghiacciato di Satana l'inferno è buio mancano il sole e il calore coloro che hanno commesso il male sono privi di energia morale il peccato dunque è l'assenza dell'anima di conseguenza nel punto più profondo dell'inferno vi è una totale assenza di calore tutto è morto e gelido e la negatività è estrema spesso usiamo espressioni come un caldo infernale figurandoci gli inferi come un luogo dove regnano il fuoco e il calore è vero esattamente l'opposto nel punto più profondo dell'inferno troviamo ghiaccio e gelo siamo nel posto più lontano da Dio che invece brucia d'amore quindi ghiaccio e gelo rappresentano l'odio perché nella simbologia cristiana tradizionale il fuoco corrisponde all'amore la punizione che spetta ai traditori quelli che hanno corrotto la fede e l'amore è un lago ghiacciato sono i colpevoli di tradimento verso la famiglia e la patria qui la pena è estrema i peccatori non sono solo imprigionati nell'inferno non possono neanche muoversi sono condannati a rimanere per sempre in quel luogo terribile al centro dell'inferno si trova non solo chi non ha amato il prossimo ma anche chi ha tradito qualcuno che amava è la pena inflitta a tutti coloro che deliberatamente hanno corrotto un legame affettivo Dante pone i traditori al centro dell'inferno considerando il tradimento il peccato più grave perché lui stesso si è sentito tradito dalla chiesa dai concittadini e dal destino Paul Booth un esperto di tatuaggi utilizza quest'arte come un modo per superare l'amarezza del tradimento il lavoro mi aiuta a gestire la mia emotività è una vera e propria valvola di sfogo provo molta rabbia nei confronti del mio passato religioso non mi piace quello che hanno cercato di inculcarmi la politica del terrore i giudizi dati a posteriori l'importanza dell'autostima tutto ciò che la chiesa mi ha trasmesso quando ero piccolo Paul non è un semplice tatuatore i suoi temi ricorrenti sono l'orrore il macabro nei suoi tatuaggi viene riprodotta la visione dantesca l'inferno ha influenzato molto il mio lavoro è la prima vera descrizione visiva di come potrebbe essere l'inferno e può essere adattata facilmente all'attualità ognuno può riferire a sé molte questioni trattate nell'inferno è un'opera senza tempo per alcuni avere un tatuaggio tratto da questo immaginario è come ricevere un esorcismo certi miei clienti mi hanno ringraziato per averli liberati dai loro incubi paul usa la pelle come un manifesto per ricordarci che la civiltà moderna può creare una propria visione dell'inferno nei miei tatuaggi sono ricorrenti immagini violente che rappresentano torture diavoli e satana servono per ricordare alla gente che spesso le scelte che siamo portati a compiere non sono affatto le migliori possiamo scegliere per noi stessi non per altre persone in sostanza questo è il mio pensiero che indirettamente vorrei riuscire a comunicare agli altri attraverso la mia arte nell'inferno dantesco i dannati non hanno più alcuna scelta sul ghiaccio spazzato dal vento Dante e Virgilio incontrano due peccatori legati insieme come Paolo e Francesca sono legati dall'amore così il conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri sono legati dall'odio il loro odio è tale che il conte Ugolino è intento a mangiare il cervello del suo nemico ai tempi di Dante c'erano numerose rivalità tra Guelfi e Ghibellini e Ruggeri fece rinchiudere il conte Ugolino in una torre a morire di fame insieme ai figli e ai nipoti mentre guardava morire i figli l'amore verso di loro si trasformò in odio verso il suo nemico in ultima analisi se ciò che anima il mondo è l'amore e l'amore è Dio al polo opposto troveremo l'odio assoluto il cannibalismo è un modo per rappresentare quest'odio interrompendo il suo macabro pasto il peccatore alza la testa e si pulisce la bocca con i capelli rimasti sul cranio che nella parte posteriore è in marcia poi dice tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria che io ne favelli ma se le mie parole esserde insieme che frutti infami al traditor che io rodo parlare lacrimar vedrai mi insieme mentre ugolino racconta a dante ciò che accadde ai suoi figli rinnova il suo dolore ma anche il suo odio è come se dicesse mi fa davvero male raccontare la mia vicenda ma se questo può causare dolore all'uomo di cui ora mi sto cibando allora ne vale la pena è questa l'essenza dell'inferno ugolino è l'ultimo dannato con il quale dante parla nell'inferno e fra tutte l'immagine del conte che mangia il cranio del suo nemico è un'icona della vendetta insoddisfatta frustrata e inutile ed è anche una sorta di addio di dante alla sete di vendetta dante si è liberato dai peccati di debolezza malizia e frode ora è pronto per affrontare il male assoluto dite o satana come è comunemente chiamato è immerso fino alla vita nel ghiaccio ecco dite dicendo ed ecco il loco ove convienche di fortezza tarmi come io divenni all'orgelato e fioco non dimandare lettore che io non lo scrivo però cogne parlar sarebbe poco nel canto trentaquattresimo satana è dipinto non come un angelo caduto ma come una figura con tre teste sopraffatta dal dolore dalla morte e dal pianto le sue ali battono costantemente congelando qualsiasi cosa è l'opposto della trinità se dio è potere saggezza e amore satana è impotenza ignoranza e odio vediamo una parodia della trinità con tre teste ma anche tre peccatori i maggiori rappresentanti dell'impero romano Bruto e Cassio e Giuda il maggior traditore di dio o meglio di dio fatto uomo Gesù Dante utilizza i temi del tradimento e dell'orgoglio per dimostrare che dio non costringe nessuno a peccare neanche il diavolo ci costringe a peccare siamo noi a sceglierlo quindi ogni peccato è un atto d'orgoglio Dante desidera trovare la strada che conduce a dio e questo viaggio gli ha mostrato la via innumerevoli persone hanno intrapreso un simile cammino e alcuni sostengono di essere stati all'inferno e di essere tornati l'inferno dantesco tratta della ricerca della strada che porta a dio narra degli orrori che derivano dal peccato e del bisogno di toccare il fondo prima di cambiare veramente Howard Storm ha fatto lo stesso viaggio in punto di morte nel 1984 Howard a Parigi si è sentito male è stato trasportato al pronto soccorso in attesa del chirurgo nel cuore della notte si stava spegnendo mentre aspettava la morte è cominciato il suo viaggio all'inferno mi rendevo conto di essere in ospedale di essere in attesa del chirurgo eppure mi sentivo bene vivo e vegeto Howard era ateo non credeva in una vita ultraterrena non è stata un'esperienza di vita dopo la morte o di alienazione del corpo non è accaduto nulla di tutto ciò Howard sostiene di essere stato condotto in un corridoio buio da sconosciuti intorno a me c'erano delle persone tutte cercavano di umiliarmi e di violare la mia mente i miei sentimenti riparlarne ora è come camminare sulle sabbie mobili mi sembra di sprofondare nuovamente in quella sensazione se non la smetto durante questa tortura Howard ha sentito la propria voce che gli diceva di pregare Dio così i suoi aggressori si sono infuriati è bastato pronunciare il nome di Dio e si sono allontanati sono tornati nell'oscurità pronunciando terribili minacce finalmente Howard è rimasto solo nel suo inferno era un luogo di disperazione di pura e semplice disperazione poi Howard si è reso conto di non essere più solo è apparsa una luce da prima debole poi accecante si è posata su di me e mi ha toccato mi ha guarito da tutte le mie ferite Howard crede che quel giorno Gesù sia andato da lui con una schiera di angeli per salvarlo e gli ha dato una nuova possibilità io ho detto cosa vuoi che faccia ama il tuo prossimo prenditi cura di tuo padre e di tua madre sii gentile con le persone che incontri nella vita quotidiana nei successivi sedici anni ho compreso che non era semplice e sto ancora tentando di capire come riuscirci ho immaginato tutto o è accaduto veramente non lo so io credo di aver vissuto davvero questa esperienza sono disposto ad accettare che quel viaggio sia stata la più grande esperienza della mia vita nei secoli l'inferno è stato oggetto di numerose interpretazioni da un luogo fisico a uno stato mentale non vorrei mai trovarmici l'inferno è soltanto un'invenzione dell'uomo è il luogo dove si brucia nel 1999 papa Giovanni Paolo II ha chiarito la natura dell'inferno con queste parole l'inferno indica più che un luogo la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da Dio questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i Beati viene designato con la parola inferno forse per molti cattolici è stata una sorpresa penso che per molti di loro in tutto il mondo l'inferno rappresentasse un luogo fisico ormai entrato nell'immaginario collettivo non credo che l'intenzione del papa fosse quella di ridimensionare il loro concetto di inferno al contrario il papa non voleva minimizzare i limiti dell'inferno e del paradiso semmai renderli più comprensibili alcuni teologi non sono d'accordo ho paura che il papa abbia frainteso la dottrina biblica relativa all'inferno tutte le affermazioni sull'inferno come alienazione da Dio sono corrette in effetti l'inferno è una condizione di assoluta separazione da Dio ma l'inferno è anche un luogo reale le scritture lo dicono molto chiaramente è una condizione di assoluta assenza di Dio ma anche un luogo di punizione eterna chi ha rinnegato Dio andrà all'inferno quando io sarò morto che cosa ne sarà del mio corpo credo proprio che sia uno stato mentale una presa di coscienza se finirò all'inferno sarà colpa mia delle mie scelte sbagliate l'inferno è la fotografia delle scelte che abbiamo compiuto nel corso della nostra esistenza dopo la vita terrena le nostre azioni e decisioni concorrono a definire un ritratto irrevocabile di ciascuno di noi alla fine del viaggio Dante non è più nello stato di disperazione iniziale quando vagava nella selva si è confrontato con i propri peccati e con il male che covava dentro di lui un nuovo percorso lo aspetta levati su disse il maestro in piede la via è lunga il cammino malvagio e già il sole a mezza terza riete credo che nessuno abbia mai scritto dei versi che affrontino temi tanto importanti la divina commedia è un'opera sul senso della vita sul fatto che la vita ha dei limiti sugli ostacoli che incontriamo sul fatto che dopo la vita ci aspetta l'eternità nella sua duplice accezione nessuno ha mai trattato questi argomenti in modo altrettanto diretto ed eloquente Dante risale l'inferno per affrontare un altro viaggio verso la speranza e il paradiso e quindi uscimmo a rivedere le stelle un altro viaggio Grazie a tutti.